buongiorno a tutti oggi è il 27 luglio 2021 siete nella trasmissione arte bellezza salute io sono paola dei psicologo dell'arte critico cinematografico e teatrale e arte terapeuta oggi parleremo di un'altra grande donna questa volta appartenuta alla poesia una poetessa nota a tutti la quale ebbe a dire una frase molto significativa toglietemi tutto ma non la poesia Emily Dickinson nacque nel 1830 nello stato del Massachusetts e secondo genita di Edward Dickinson che era uno stimato avvocato destinato a diventare deputato del congresso iniziò ad amare la poesia molto in giovane età era caratterizzata Emily Dickinson era caratterizzata da un carattere piuttosto contraddittorio molto orgogliosa molto fiera e come dicevamo prima fin da giovane età più o meno aveva una ventina di anni quando decise di scegliere una vita in solitudine decise di non sposarsi si si convertì diciamo a questa filosofia della solitudine con molta convinzione nessuno è mai riuscito a comprendere quali furono le vere ragioni di questa sua ostinazione che lei mantenne per tutta la sua breve vita ma pensarono che ci fossero state delle delusioni d'amore alcuni studiosi cercando nella vita di Emily hanno provato a vedere se questa sua decisione fosse stata portata dall'amarezza di delusioni d'amore avute precedentemente ma sembra che non sia così oppure hanno cercato di capire se questo poteva essere dovuto a qualche suo problema fisico ma non è così ammesso e concesso poi ci sono persone con problemi fisici che comunque si sposano hanno una vita perfettamente normale fanno anche figli questo a dimostrazione a dimostrazione che spesso il sentirsi diversi è più importante dell'essere diversi cioè Emily Dickinson aveva questa grande sensibilità e si sentiva diversa ecco magari se prendiamo un tratto con un carattere narcisistico che ha anche qualche vera diversità però non non se la sente e fa una vita perfettamente normale quindi come dicevamo prima il discorso del sentire qualcosa dentro sicuramente fu la motivazione il sentire che la sua sensibilità era molto maggiore a quella della società nella quale viveva decisamente fu il motivo principale che la portò poi a decidere di non sposarsi i suoi studi si svolgono prevalentemente come autodidatta ma molto 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 sono anche dovuti al suo amore per la lettura Emily Dickinson è una divoratrice dei libri legge in continuazione e viene anche seguita da un assistente del padre Benjamin Newton con il quale si scriverà anche molte molte lettere e questa scrittura delle lettere sarà motivo fondamentale di formazione sono sempre lettere di scambi molto eruditi culturali e per avere un contatto con il mondo lei il parlare con questo uomo per lei era appunto mantenere piedi nella realtà e spesso anzi quasi sempre mandava a lui le sue poesie stringe un'amicizia con Susanne Gilbert e anche a lei inizia a scrivere delle lettere nel corso della sua vita fa qualche breve viaggio ma prevalentemente per andare a trovare parenti e conosce il reverendo Charles Schwabwork un uomo sposato del quale sembra che lei si fosse innamorata fortemente ma chissà se veramente lei nel profondo aveva l'intenzione di stare sola non è casuale che si sia innamorata poi di un reverendo che non la poteva corrispondere probabilmente la sua diciamo scelta inconscia il suo innamoramento inconscio era proprio dovuto al fatto che una figura di fede e oltretutto sposato non avrebbe mai potuto corrispondere alle sue aspettative amorose ma nel 1857 incontra anche un'altra persona importante lo scrittore e filosofo trascendalista Ralph Waldo Emerson poi stringe amicizia con Samuel Bowles direttore di un giornale su cui vengono pubblicate alcune sue poesie conosce altri altri personaggi con i quali stringe dei rapporti prevalentemente epistolari come come era abitudine per lei no abbiamo visto che il suo modo di comunicare in maniera epistolare era quello da lei preferito la sua casa è il centro della vita culturale del piccolo paese del Massachusetts dove lei è nata e lei piano piano frequentando questi personaggi tutti dotati di una intelligenza notevole tutti appartenenti appunto alla filosofia alla teologia alla scrittura a modo di formarsi e di ampliare le sue le sue doti poetiche passa da un tema all'altro ci 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 è noto come nel 1860 ha visto un furore poetico e sentimentale compose circa 400 liriche e sembra struggersi per un grande amore che viene appunto identificato con il direttore del giornale dove vengono pubblicate le le poesie nello stesso anno incomincia a scrivere a un colonnello scrittore al quale chiede anche un giudizio sulle sue opere opere e lui rimane veramente veramente affascinato e incantato come dicono in spagna incantato dall'intelligenza e dal genio della poetessa ma ritiene però che le sue opere sono impubblicabili 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 ma a emily non interessa affatto pubblicare le proprie opere il suo il suo desiderio è più quello di scriverle che non quello di pubblicarle nel 1865 trascorre alcuni mesi a Cambridge sempre nel Massachusetts ospite delle cugine per curare una malattia agli occhi e questo la porta ad auto escludersi sempre più sempre più e incomincia a detestare sempre più i contatti umani superficiali non non le mancano diciamo che preferisce decisamente uno stato di solitudine ai rapporti umani che non sono veri che non arricchiscano nei suoi aspetti culturali che non aggiungano qualcosa di importante alla alla sua crescita spirituale e culturale continua però invece a scrivere delle lettere e diviene sempre più intensa essenziale profonda scrive un numero considerevole di poesie tanto da arrivare a 1862 scritti e inizia poi un periodo durissimo per lei perché vede scomparire il padre poi il direttore della rivista la madre sviluppa una grave malattia fortunatamente nel 1879 sembra essere illuminata da un nuovo grande amore però ti slord un giudice vedovo amico del padre ma ci rimangono molte 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 domande e molti dubbi su quali fosse la natura del loro amore che sembra essere più frutto di congetture risposte date dagli studiosi che non un amore realmente consumato muore anche la madre muore il nipotino gilbert muore il giudice lord emily è distrutta e nel 1885 si ammala e muore nello stesso posto dove lei era nata sempre nel massachusetts emily dickinson è veramente straordinario leggere le sue poesie e sapere che lei non si era mai mossa praticamente tranne per andare a trovare qualche parente non aveva mai avuto delle reali relazioni di matrimonio o quant'altro ma che aveva vissuto tutta l'intensità del mondo all'interno di quel piccolo faccioletto di 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 terra nel massachusetts lei aveva vissuto tutte le infinite possibilità emozionali e sentimentali dell'essere umano come dimostrano le sue poesie alla sua morte la sorella vinni le scopre e cerca di pubblicarle vengono vengono pubblicate in maniera parziale fino all'edizione critica completata nel 1955 curata da thomas h johnson e comprendente 1775 poesie la sua fu veramente una rivelazione una rivelazione sia per gli editori sia per i lettori conquistò subito tutti grazie alla sua capacità di cogliere tutte le emozioni del mondo grazie alla sua potenza grazie alla sua sensibilità e tanto da quel momento da diventare un vero fenomeno editoriale sono moltissimi le moltissimi i titoli delle poesie che ha scritto emily dickinson e tutti noi sicuramente ne abbiamo lette alcune ne abbiamo lette alcune e che da quel momento sono state pubblicate uno dei testi per esempio pubblicato in italiano nel 2019 dell'edizione fili d'aquilone è la goccia che combatte nel mare il primo verso di una sua poesia ma anche un'immagine perfetta per illustrare uno dei tanti aspetti della poesia di questa poetessa quale aspetto il dono di sapere evocare e raccontare con la stessa forza i piccoli particolari della natura i fiori gli animali che vivono in un giardino insieme al mistero dell'infinito e della morte con la capacità di unirli per mostrare l'intimo collegamento un po' come la scienza che osserva l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo in questo filo conduttore dell'antologia troviamo una micetta cacciatrice l'incessante svolazzare di un colibri con versi veramente importanti che interrogano e fanno interrogare chi li legge sul senso della vita poi abbiamo pubblicato nel 2014 per il saggiatore le lettere d'amore un libro lirico sensuale mistico tenero luminoso doloroso l'amore coniugato in molte forme tutte intense laceranti ed è questo il periodo di cui abbiamo parlato dove lei era piena di questo furore amoroso di questa passione vissuta molto più internamente le lettere d'amore sono state sempre ripubblicate nel 2018 a cura di Giuseppe Ierolli per il saggiatore e poi appunto abbiamo detto la pubblicazione che comprende oltre 1700 opere sue una poetessa della quale vale veramente la pena di leggere qualche verso perché ci apre ai misteri della vita e ci porta ad osservare le più piccole cose che abbiamo intorno a noi con occhi nuovi io vi saluto ci diamo appuntamento fra 15 giorni essendo il prossimo lunedì agosto e quindi ci diamo appuntamento fra 15 giorni per parlare di un'altra grandissima donna della storia dell'arte buona settimana a tutti e buone cose ciao da Paola Dei arte bellezza salute e quindi ci diamo appuntamento fra 15 giorni per la prima volta